Buongiorno e benvenuti a bordo della HG Hypergrinder, sono Alessandro Comignani ed oggi ho il piacere di presentarvi la nostra Titan 500, macchina che di fatto apre le porte al mondo delle maxi levigatrici pur essendo una monofase. Passiamo subito ad elencare le principali caratteristiche della nostra Titan 500 che la rendono una macchina ideale per essere utilizzata su tutte le superfici ma soprattutto per essere utilizzata nelle diverse lavorazioni, dalle preparazioni alle levigature, dalle rimozioni alle lucidature. Il primo impatto ci regala un design aggressivo, sintesi di compattezza e robustezza grazie a un peso complessivo di 180 kg, peso che è ben centrato su un planetario monodirezionale con satelliti porta utensili da 200 mm di diametro. Il planetario è equipaggiato con cuscinetti SKF e con una trasmissione ad ingranaggi ad acciaio temperato e non a cinghia, particolare questo che permette una continuità di lavoro per migliaia e migliaia di ore, conservando sempre la stessa potenza e di fatto rendendo minima la manutenzione, peraltro resa molto agevole grazie agli appositi ugelli per ingrassare cuscinetti ed ingranaggi. Inoltre il planetario utilizza la nostra innovativa tecnologia ReadyCool, che permette l'aggancio degli utensili in modo semplice e rapido. Particolare e interessante e molto valido è che i satelliti sono dotati di giunti anti-shock. Completano il quadro della Titan 500 una serie di accorgimenti particolarmente utili e comodi nelle fasi di lavoro, come la connessione diretta ad un tubo dell'acqua, pur essendo presente un capace serbatoio di ben 46 litri, comoda anche la connessione dell'aspiratore ben posizionata appena dietro il manico. Molto utili potrebbero essere una coppia di golfari di serie. E per l'appunto un manico regolabile, che permetterà una comoda posizione nelle fasi di lavoro, oppure chiuso a 90 gradi, renderà minimo l'ingombro. È possibile montare il manico in questa posizione per un controllo diretto delle lavorazioni della macchina e per un minore ingombro in spazi stretti. Un quadro comandi del manico che ha tutto l'essenziale per lavorare in sicurezza e nel massimo comfort, un pratico portaoggetti, un comodo portabevande e due utilissime porte USB per il vostro smartphone. Ottimo il sistema di pesi a ribalta, che permette di avere maggiore pressione in fase di lavoro o, altrimenti, facilitare le operazioni di sostituzione degli utensili e, perché no, del trasporto. Ruote di trasporto ben dimensionate ed antitraccia, utilissime nella fase di lucidatura. Un ottimo alloggiamento sulla campana del planetario per l'utilizzo di eventuali pesi aggiuntivi. Comodità di poter dividere la macchina in tre parti, nel caso di disponibilità di un elevatore, corpo macchina, motore, planetario. Fiore all'occhiello la possibilità di montare un faro a LED sul fronte del planetario per lavorare in ambienti poco illuminati o di notte e avere sotto controllo costantemente la tipologia di lavoro che si sta effettuando. Caratteristica fondamentale della Titan 500 è la sua versatilità, poiché grazie a un planetario la cui area di lavoro è di 500 mm, lo stesso planetario può essere sostituito da un disco bocciardatore, da una spazzola per lavare o da un pad per lucidare. In pratica non esistono limiti per la Titan 500. Infine, due le versioni disponibili, entrambi monofase, una con velocità fissa, una con velocità variabile. Quest'ultima si fa preferire poiché aumenta le capacità performanti della macchina, come ad esempio la scelta del senso di rotazione destra o sinistra del planetario. Vi ringrazio per il tempo dedicato, per ulteriori info www.hypergrinder.com, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube e soprattutto vi aspetto alla prossima. Un saluto da Alessandro. Ciao!